Benvenuti in questo video dove tratteremo gli strumenti per lo storytelling didattico. In particolar modo stavolta ci dedicheremo a Storyweaver, vale a dire una web app, un'applicazione cioè basata sul web, sulla rete, per raccontare storie tramite immagini. Storyweaver è un'applicazione presente nel web che raccoglie già moltissime storie scritte in moltissime lingue. Chi si occupa di storytelling conoscerà però senz'altro una famosissima web app che è Storybeard. E allora ci si chiede per quale motivo raddoppiare gli strumenti visto che Storybeard è tra i migliori. Perché da qualche tempo Storybeard è divenuta pagamento e quindi alcune funzionalità a cui siamo abituati richiedono il pagamento di una quota. Al momento invece Storybeard non prevede alcuna quota per l'utilizzo. Innanzitutto vediamo a cosa serve. Serve sostanzialmente a creare storie con immagini date, c'è infatti un repertorio vastissimo di immagini, oppure è anche possibile caricare le proprie immagini. Ma serve anche a imparare le lingue perché Storyweaver, a differenza di altri database di storie, raccoglie narrazioni svolte in tutte le lingue, quindi ne possiamo trovare molte anche in italiano, francese, inglese. E peraltro Storyweaver richiede sempre di specificare il livello della lingua di modo tale che un eventuale lettore possa cimentarsi con una difficoltà crescente o decroscente per l'apprendimento di una lingua straniera. A chi serve? Diciamo che è soprattutto indicato ai docenti di infanzia e primaria per quanto riguarda la costruzione delle storie, anche se per l'apprendimento delle lingue può essere usato a più livelli. In generale ai docenti può servire per spiegare, per raccontare, agli alunni naturalmente per imparare in modo diverso quello che sanno già fare o hanno già fatto in termini analogici, per esempio attraverso il cartaceo. Come funziona in breve? Occorre, dopo l'iscrizione, scegliere delle immagini e si costruiscono dunque delle vere e proprie impaginazioni con il testo e alla fine si pubblica online, quindi ha un procedimento di utilizzo essenzialmente identico a quello di Storybeard o anche molti altri programmi che servono a tutto questo. Ora, per vedere meglio come funziona, andiamo nel link che è storyweaver.org.in Ecco, questa è l'home page di Storyweaver. Quello che vediamo in alto sono le proposte della lettura di questo enorme database di storie e se scendiamo in basso vediamo tramite queste comodissime flashcard le storie che hanno realizzato o gli autori di Storyweaver oppure molti altri utenti. Per esempio, possiamo sceglierne già una per utilizzare Storyweaver in modalità lettore, quindi per esempio per imparare le lingue. Infatti notiamo che in ognuna è scritta la lingua, in questo caso English, e anche il livello. Noi clicchiamo sulla flashcard, ci viene proposta una breve sintesi di questa storia, quante volte è piaciuta, il logo del cuore, quante volte è stata letta. Possiamo vederne ulteriori dettagli, ma noi ora decidiamo di leggerla. Clicchiamo dunque in questo tasto azzurro e dopo qualche istante, ecco qui, inizia questa flashcard sotto forma di storia. Ecco, in questo caso è sfogliabile, qui vediamo un andamento verticale della storia, proprio come fossero delle figurine, e notiamo in alto le immagini che sono state prese dal database di Storybeard e in basso invece il testo. Altre storie invece hanno un andamento diverso, orizzontale, per esempio questa. Ecco, in questo caso vediamo una storia il cui andamento grafico è più tradizionale, e quindi di natura orizzontale. La sfogliamo nello stesso identico modo e quindi dunque vediamo il modo in cui si possono usare storie altrui. Ovviamente con questa icona in alto a sinistra è possibile mettere a schermo intero la storia. Ora a noi però interessa scrivere la nostra storia. Quindi dopo aver fatto il login e quindi essersi registrati, bisogna andare sulla parte dedicata al create, vale a dire crea una storia. Le altre voci di menu servono per soprattutto consultare i materiali presenti o talora persino tradurre le storie, magari presenti in inglese e francese in italiano. Da notare che sono ovviamente traduzioni automatiche. Andiamo dunque su create. A questo punto si apre dopo qualche istante di caricamento questa immagine con questa scheda. Ecco, questa scheda è come una sorta di carta d'identità della nostra storia. Ci viene chiesto la lingua nella quale ci accingiamo a scrivere e noi in questo caso scegliamo la lingua italiana. Questo è utile per quanti poi cercheranno la nostra storia. Possiamo scrivere un titolo. Il titolo è obbligatorio. Scriviamo mio titolo. Il livello di lettura. Ovviamente qui StoryWeaver semplifica molto i livelli. Non siamo di fronte a una tabella EQF, ma siamo a una distinzione in un certo senso più semplice. Livello 1, parole semplici, fino ad arrivare al livello 4. Ora scegliamo livello 1. Dobbiamo anche scegliere il layout, se orizzontale o verticale, del nostro testo. In ogni caso, StoryWeaver ci ricorda che tutte queste scelte possono essere poi modificate in fase finale. Noi scegliamo l'andamento orizzontale. Poi in questi due tasti ci viene chiesto se iniziare inserendo immagini o inserendo parole. Il procedimento è del tutto identico, ma noi iniziamo tramite le immagini. Ecco qui. Dopo aver scelto di iniziare con le immagini, ecco qui che il nostro StoryWeaver ci propone un database di molte immagini. Ora, noi possiamo scegliere le nostre immagini attraverso il campo ricerca. Per esempio posso scrivere spider e lanciare una ricerca. Ed ecco qui tutte le immagini che mi vengono presentate. Oppure, se voglio fare ricerche più generiche, cancello la mia ricerca e utilizzo le voci di menu qui nella parte sinistra. Per esempio, Buildings, vale a dire edifici. Io clicco, lancio la ricerca e quello che mi verrà proposto saranno delle immagini che in qualche modo hanno a che fare, ecco qui, con gli edifici. Poi andiamo di voler scrivere una storia che ruoti attorno a una narrazione legata agli edifici e quindi scegliamo una storia. Per esempio, scegliamo un'immagine. Per esempio questa. Mettendoci il mouse sopra possiamo chiedervi di salvarla tra i preferiti, quindi ci verrà proposta spesso, e questo si usa quando le immagini che usiamo sono ricorrenti. Oppure, ed è il nostro caso ora, aggiungila alla pagina corrente. Noi scegliamo di aggiungerla alla pagina corrente. Un attimo prima, ecco, Storyweaver ci chiede quale frammento, frazione di immagine noi vogliamo inserire. Qui c'è un semplicissimo menu che possiamo zoomare se ci interessa un dettaglio. Che so, gli UFO. Oh, sembrerebbero dei droni. Oppure possiamo semplicemente fare uno zoom out e inserirla tutta. Qui per esempio vediamo che l'immagine che è stata selezionata da noi è sì rettangolare, ma ha un rapporto di proporzioni diverso da questa parte illuminata. Questo significa che noi stiamo lavorando su una pagina che nello specifico non può accogliere integralmente questa immagine. Possiamo al limite, ecco, come sto facendo io ora, muovere l'immagine e far entrare quello che ci interessa. Una volta scelta, clicchiamo sulla V ed ecco che l'immagine viene inserita. Proprio come dicevamo su Storybeard, qui possiamo inserire in basso il testo e scriviamo mio testo. In questo caso il testo è nella parte bassa e l'immagine è nella parte alta. Se vogliamo modificare questa impostazione noi andiamo su Orientation e Layout. Qui vedete che si può modificare l'impostazione orizzontale o verticale, ma si può anche spostare il testo. Se il testo lo vogliamo sulla destra, sceglieremo questa impostazione di Layout qui. Chiaramente, come vedete, l'immagine risulterà parzialmente modificata, ma il mio testo sarà sulla destra. Se invece vogliamo tornare a inserire il testo dove era prima, scegliamo il Layout precedente, oppure possiamo sceglierne anche altri. Ecco, questo è sempre il testo in basso, ma più spazio per il testo. Se invece cambiamo idee e vogliamo una pagina dove c'è soltanto l'immagine, sceglieremo questo Layout. Ecco, qui non c'è spazio per il testo. Viceversa, ci sono delle scelte come questa, dove invece il testo è a piena pagina. Ecco qui, nell'ipotesi che si voglia scrivere una storia intervallata da pagine testuali particolarmente lunghe. Ora, se torniamo a un Layout precedente, vediamo che l'immagine viene perduta perché abbiamo scelto il Layout solo testo, ma noi riclicchiamo su Aggiungi un'immagine, il programma, ecco qui, si ricorda delle nostre ricerche, Buildings, e dunque noi l'aggiungiamo di nuovo alla pagina corrente. Eccola qui. E l'abbiamo di nuovo inserita. Ecco qua. Ora, nella parte sinistra, tutti quelli che hanno usato almeno una volta PowerPoint ritroveranno un'impostazione molto simile, cioè l'impostazione per pagine, dove la prima e l'ultima sono le copertine, e anche noi le lasceremo per ultime. Poniamo di voler aggiungere tre pagine. Qui ne abbiamo al momento solo una. Clicchiamo su Insert Page, scriviamo tre, diamo l'ok, e ora vedremo nella parte sinistra inserite tre pagine. Ovviamente hanno un layout di questo tipo, ma il layout si può sempre cambiare tramite la voce di menu che dicevamo prima. Aggiungi un'immagine, di nuovo inseriamo ora un'altra immagine fatta così. Eccola qui, sempre con questi droni volanti. Ecco qua. E qui possiamo inserire di nuovo il testo. Cosa che non permetteva Storybeard è una minima formattazione qui del testo. Se infatti clicchiamo nella voce di Test and Background, possiamo operare qualche lieve modifica al testo. Per esempio possiamo centrarlo, come ho fatto qua. Possiamo metterlo in grassetto o in corsivo. E possiamo, tramite questa scelta rapida, inserire testo più grande, più piccolo o molto piccolo. In base poi anche al device, cioè al dispositivo con cui verrà letta la storia. Vediamo ora qualche indicazione di menu nella parte centrale. Per esempio, queste due parentesi uncinate non fanno altro che riportarci rapidamente nella pagina precedente e successiva. Questo più serve aggiungere una nuova pagina. Quindi è un comando alternativo a quello che avevamo visto qui. Questa, invece, icona serve a modificare l'immagine. Poniamo di voler scegliere un'immagine diversa, per esempio questa, e vedrete che, ecco qua, dato l'ok, l'immagine precedente è sparita, sostituita dalla nuova. Questa, invece, serve per riposizionare l'immagine, ecco qui, secondo altri criteri dimensionali. Per esempio, se vogliamo inserire solo un dettaglio di questa immagine, noi possiamo fare uno zoom di questo tipo, dare l'ok, ed ecco che l'immagine è stata in parte riselezionata. Con, ovviamente, l'icona del cestino, noi rimuoviamo l'immagine. Andiamo in un'altra pagina, inseriamo di nuovo un'immagine, stavolta scegliamo, per esempio, questa, aggiunge alla pagina corrente, diamo, ecco qui, diamo l'ok, e l'immagine viene inserita. E qui, sempre sulla destra, noi abbiamo modo di inserire il nostro testo. Spostiamoci di nuovo nella parte di sinistra, scegliamo un layout diverso, per esempio, questo, e inseriamo un'immagine. Stavolta, però, noi vogliamo inserire una nostra immagine, per esempio, un disegno dei bambini o una fotografia. In quel caso sarà necessario andare su Upload Image, la procedura è piuttosto dettagliata, qui si sceglie un'immagine, bisogna dare un titolo, bisogna specificare una categoria, perché è da tenere presente che questa immagine poi sarà usabile anche da altri utenti, e quindi segnaliamo a StoryWeaver se è un'immagine che riguarda oggetti, persone, trasporti. Poi dobbiamo inserire dei tag, vale a dire delle etichette, che in qualche modo aiutino a ritrovarla. Dobbiamo concedere il Creative Commons By, vale a dire la licenza Creative Commons che riconosce l'autorialità di chi carica l'immagine. Volendo, si può anche specificare se questa immagine riguarda un bambino oppure no. Al termine della procedura, noi cliccheremo su Upload. Questa immagine è da tenere presente che la ritroveremo sempre in questo menu Favorites, cioè Favoriti, vale a dire le immagini che usiamo più spesso. Ora, terminiamo il nostro processo di pubblicazione della storia. Tenete presente che io qui ho volontariamente tralasciato le due copertine. La copertina, la cosiddetta Back Cover, quella posteriore, è molto poco editabile. Vedete, c'è il mio titolo e il livello della mia lingua, mentre invece la copertina frontale è editabile nella maniera tradizionale. Aggiungi un'immagine, andiamo su Browse delle immagini, noi scegliamo questa, per esempio. Ecco qui, la selezioniamo in questo modo. L'immagine quindi ora viene inserita all'interno del nostro, ecco qui, Storyweaver. Abbiamo fatto quasi tutto. Tenete presente che io qui sto volontariamente lasciando una pagina inserita ma in bianco. Vedrete che ora Storyweaver me lo farà notare e dovremo tornare qui a o eliminarla o editarla, cioè modificarla. Noi andiamo su Preview per avere una, ecco qui, una specie di istantanea di come diventerà la nostra storia. Chiudiamo la Preview, andiamo su Save. Ecco qui, in questo caso io ho salvato il mio lavoro ma non è stato ancora pubblicato e quindi dovrò andare nelle mie bozze. Clicchiamo sul nostro account, poi dashboard o cruscotto a seconda della lingua del nostro browser. Poi andiamo su My Draft, le mie bozze. Eccola qui, la storia. Clicchiamo. Ecco qui, possiamo leggerla, condividerla. Ecco qui, Red Story, qua. Possiamo tradurre questa storia. Oppure addirittura possiamo rimodificarla, condividerla in questo modo. e poi torniamo di nuovo nel nostro cruscotto. Ecco qui, My Draft. Ecco, se vogliamo modificarla invece, noi clicchiamo nell'icona della matita. A quel punto ci ritroveremo esattamente nel menu di un attimo fa. Ecco qui, la nostra storia è quasi completa. Tenete a mente che abbiamo lasciato una pagina vuota, quindi clicchiamo su Publish. Ecco qui, dice, sembra che tu abbia dimenticato di editare quella pagina. Io quindi mi accorgo di averlo fatto. Questa pagina non mi interessa di modificarla, quindi clicco sul tasto Elimina. Eccolo qui, confermiamo l'eliminazione. E adesso è possibile procedere alla pubblicazione. Vado su Publish. Ecco qui. Dopo qualche istante di caricamento dovremo dare ulteriori, brevi informazioni sulla nostra storia, dopodiché sarà possibile pubblicarla. Ecco, qui mi dice qual è la flashcard, vale a dire la figurina della tua storia. Di norma viene presa a prestito per fare questo la copertina. Noi inquadriamo la parte che più ci interessa, per esempio questa. Diciamo di aver fatto. Ecco. E ci dice Storyweaver. Questo è il modo in cui la tua storia apparirà sotto forma di flashcard. A quel punto noi diamo l'ok con Publish. Ultime informazioni da inserire. Il mio titolo. Poi ci viene detto di compilarlo anche in inglese. Ci viene chiesta anche una breve sinossi, una sintesi. Dei tag. Purtroppo questi campi sono obbligatori. Categoria. La categoria è, nel nostro caso, fiction, per esempio. Livello di lettura. Quello che ci aveva fatto scegliere all'inizio. E che qui possiamo confermare o cambiare. Qui possiamo inserire ulteriori informazioni. Ci viene chiesta poi se questo è un lavoro di un ragazzino oppure no. A quel punto noi clicchiamo su Next. Ecco. Questa è copertina frontale. Copertina posteriore. Publish. E a quel punto la storia è effettivamente pubblicata. E infatti dice ecco la tua storia apparirà nei nuovi arrivi in poco tempo. Dove troveremo la nostra storia? Sempre nel nostro cruscotto vale a dire clicchiamo sulla nostra utenza. Dashboard. Stavolta non andiamo più su My Draft perché non è più una bozza. Ma è una storia pubblicata. Quindi My Published Stories. Clicchiamo qui. Ed ecco tutte quante le nostre storie. Da tenere a mente che tramite il cruscotto dashboard noi possiamo intervenire su tanti aspetti. I miei dettagli, le mie storie pubblicate. Storie pubblicate sotto modifica, illustrazioni, bozze. Storie che sono state attive ma sono state per qualche motivo poi anche disattivate. Tramite invece la voce di menu che si trovano in alto possiamo invece leggere storie altrui. Oppure di nuovo crearle, tradurle, vedere le immagini o vedere delle categorie di storie. Questo è essenzialmente il funzionamento di StoryWeaver. In sintesi cosa possiamo dire di StoryWeaver? Si tratta di uno strumento semplice, una web app che non richiede particolari competenze e che serve essenzialmente a rendere digitali delle storie che potevano anche essere cartacee e perché no serve anche per i bambini più grandi ad imparare le lingue. Grazie a tutti.